Prosegue la rassegna teatro in sala. Siamo arrivati al terzo appuntamento che domani sera vedrà in scena una compagnia locale di Polla, i saltimbanco di Don Bosco, dell'associazione Tempo e Memoria, che portano un'opera, uno spettacolo di Raffaele Cajaniello e Graziro Paraviso per la regia di Franca Ciccarelli. La storia si svolge praticamente in queste case di frontiera che sono delle riserve perché praticamente venivano confinati qui queste persone del sud, venivano viste un pochettino male, però tra varie battute, equivoce e cose si rifletterà anche sul caso della emigrazione della gente. E poi ci sarà la chiusura da parte dei ragazzi di San Rocco che chiuderanno il cartellone teatrale e daranno appuntamento molto probabilmente anche all'anno prossimo. Sì, sicuramente daremo appuntamento all'anno prossimo, come di consueto chiuderemo noi la rassegna con uno spettacolo nostro e poi dopo lo spettacolo nostro ci sarà sicuramente la serata di gala dove ci sarà la premiazione e tanto altro ancora divertimento.